Bene, benvenuti. Benvenuti a questo incontro su, diciamo, i misteri dell'estate riguardo a Giovanni Battista e Uriele, ecco, l'Arcangelo Uriele, ecco. E mi premuro soltanto, spero che non ci siano problemi di ritorni audio perché intorno a me nel palco stasera ci sarà un concerto, quindi sto usando un microfono direzionale, sperando che abbia meno problematiche di entri. Se c'è qualche rumoretto sotto, spero che non possa dare problematiche. Benissimo. Andiamo a vedere. E se potete eventualmente chiudere l'audio e casomai aprirlo soltanto quando eventualmente poi possiamo intervenire, ecco, per evitare che ci siano dei rienti. Lo dico a quelli che si collegano per la prima volta, ecco. Stasera ho aperto anche ad altri che volevano essere invitati e quindi c'è qualche amico nuovo, ecco, che ci è venuto ad ascoltare. Bene. Allora, possiamo cominciare. Dunque, vediamo di analizzare un attimo questi personaggi, Uriele e il Battista. E ovviamente cercheremo anche di comprendere qual è la missione di Uriele e qual è la missione del Battista. Questa immagine, che è un'immagine di Leonardo, la Vergine delle Rocce, le vediamo qui al centro Maria. Vedete che è un'ambientazione molto particolare perché è una sorta di spelonca all'interno di un, quasi di un seppolgo, di una grotta, come venite dentro proprio nella profondità del corpo più oscura. Qui abbiamo Maria, qui abbiamo Giovanni Battista che è come sotto la tutela di Maria e anzi, sembra quasi che Maria lo voglia porgere verso Gesù. Gesù gli fa un cenno con le dita come di benedizione e Giovanni Battista si inchina davanti a Gesù. E questo arcangelo misterioso, Steiner, dice che è Uriele. Uriele indica proprio Gesù. Lui, Giovanni, adesso cercheremo di conoscere, ti riconoscerà. Quindi Giovanni è colui che è l'annunciatore del Cristo e vedremo che più propriamente è l'annunciatore dell'Io, il precursore dell'Io. Mentre Gesù, Cristo, è l'Io di per sé, cercheremo di capire cosa vuol dire questo essere un Io, Giovanni è colui che riconosce l'Io, colui che porta la testimonianza dell'Io. Allora, l'arcangelo Uriele, l'etimologia del suo nome proviene proprio da luce di Dio, colui che è luce di Dio, oppure Dio luce. E in altri testi, diciamo a pochi, viene chiamato l'arcangelo dei tuoni e del tremore. Vedremo tremore perché in realtà è anche un angelo ammonitore, è un arcangelo che con il dito ammonisce. Ecco, vedete che ha questo bastone in mano come per indicare, attenzione, bacchetta, è l'arcangelo bacchettatore. Scusate, mi scuso con Uriele se uso questo termine, però è l'arcangelo bacchettatore, ecco, vedremo anche perché. Uriele, dove lo troviamo? È un arcangelo che non è noto, è un arcangelo che ha governo delle quattro stagioni insieme agli altri tre. Noi sappiamo che, per esempio, Gabriele è il reggente del Natale, cioè quindi del periodo invernale. Abbiamo Raffaele, che invece è il reggente della primavera. Abbiamo Uriele, che è il reggente dell'estate. E Michele, che è il reggente dell'autunno. Ecco, Uriele non è tanto conosciuto, all'interno della Bibbia non viene nominato, ma lo troviamo nel libro di Enoch, specialmente nel ventinesimo capitolo del libro di Enoch, che è un libro che addirittura è pre-cristiano, secondo secolo avanti Cristo, e in un altro apocrifo, anche questo che si perde nella notte di tempio, che si chiama il libro di Ezra, in cui si parla di Uriele. Ecco, si parla del fatto che Uriele in qualche modo dà una rivelazione particolare. Uriele è l'arcangelo dell'estate. Qui c'è un'immaginazione che ho trovato, fatta da un antroposovo, non sono riuscito a capire chi è l'autore, però è interessante, ne parleremo eventualmente alla fine di questa immagine di Uriele, reggitore dell'estate. È detto ammonitore, come vi dicevo, perché mette in guardia l'uomo dalle insidie arimaniche che sono presenti in estate, nel caldo e nell'esalazione sul furre che abbiamo appunto dal sottosuolo. Però prima vorrei farvi una panoramica e arrivare al culmine, alla fine, su queste affermazioni. Uriele conosce ovviamente il piano divino, l'evoluzione, e indica colui che grida nel deserto della solitudine. Quindi nella, diciamo, in quella vicenda iniziale, è colui che annuncia a sua volta Giovanni Battista. Di fatto Giovanni Battista, prima ho detto che è il precursore dell'io, è colui che per la prima volta sperimenta cosa voglia dire essere un io. Dobbiamo cercare di capire che cosa vuol dire essere un io, e stasera cercheremo di sforzarci per imparare a dire io realmente a noi stessi e non a qualcos'altro, ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti, al nostro corpo. Di fatto ognuno di noi, prima di scoprire che dentro di noi c'è un io, è un Giovanni Battista, quindi è un annunciatore. Giovanni Battista ovviamente arriverà fra poco, è colui che brilla nell'estate, la notte più lunga dell'anno, il giorno più che lungo è il giorno più luminoso dell'anno. Vediamo chi è il Battista. Vedete, il Battista in questa immagine indica Gesù, indica il Cristo, dice è lui, è lui, è lui l'io, lui è ciò che deve venire dopo di me, e lui è ciò che prenderà piede dentro l'umano come principio di autorità. Ecco, da dove viene Battista? Mentre abbiamo cercato di vedere che Uriere, luce di Dio, lo troviamo citato all'interno dell'evoluzione divina nel libro di Enoch, nel libro di Ezra, l'individualità invece del Battista da dove proviene? Allora, se andiamo a vedere gli apocrifi, perché questa cosa noi la sappiamo non dalla Bibbia, ma anche dai Vangeli apocrifi, c'è un annuncio in cui troviamo una coppia che si chiama Zaccaria, e l'altra si chiama Elisabetta, il marito che si chiama Zaccaria è molto anziano, e anche Elisabetta è anziana, vorrebbero tanto avere un figlio, non ce l'hanno, non possono averlo. E Gabriele, appare a Zaccaria che è un sacerdote del Tempio, gli dice Dio sarà buono con te, ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Quindi anche qui vedete che Giovanni in qualche modo viene annunciato. E poi c'è una vicenda in cui Zaccaria non crede a questo, dice ho avuto una visione, non è possibile che mia moglie così anziana possa fare bambini, ormai è diventata sterile, e perdela, diventa muto. Diventa muto finché il bambino non nasce, e quindi è come se non avendo creduto all'annuncio di Gabriele, ricevesse come una punizione, quello di essere muto. Però Elisabetta rimane incinta, e noi Elisabetta, cioè questa tradizione di Zaccaria e della moglie di Elisabetta, non è che la sappiamo dai Vangeli, sappiamo soltanto che Maria va a visitare Elisabetta, sua cugina, ma non sappiamo niente di tutta questa storia di Gabriele, della serenità, e questo lo sappiamo dagli apocrifi. Comunque di fatto, è bene sapere che Zaccaria ed Elisabetta riescono ad avere un figlio in tale età, e questa Elisabetta rimane incinta sei mesi prima, diciamo no, scusate, sì, come se Giovanni Battista nasce prima, sei mesi prima della nascita di Gesù di Nazareth, ecco. E sapete che noi, leggendo il Vangelo, vediamo sussultare Gesù nel grembo quando lei incontra Elisabetta, perché i due si riconoscono, è come se Giovanni si accorgesse di colui che poi dovrà annunciare, ecco. E di questa visita a Maria e Elisabetta appunto ce ne parlano proprio i Vangeli, i Vangeli di Matteo e di Luca, ecco. Questa nascita del Battista da Elisabetta è documentata, che ci sono tanti apocrifi che lo dicono, ma ci sono anche delle pitture che lo mostrano. In questo caso vediamo, questo è Giovanni Battista appena nato, che viene allattato, vedete, dalle signore. Poi, questo bambino cresce, ha una missione da svolgere, si sente che deve entrare una confraternita, andrà a far parte, conoscerà gli esseni, viaggerà, fino a che non sentirà un impulso di dovere come ritirarsi dal mondo e di cercare una soluzione a una sensazione che lui diventa sempre più forte. Lui è un individuo che si sente molto solo, al punto di essere colui che grida nel deserto, che gruda nella solitudine del suo io. Giovanni Battista è il primo essere, sulla Terra, che si sente un io. Ma non perché è già venuto l'io, no, perché ha la premonizione di essere un io, ecco. Noi sappiamo che Giovanni Battista minaccia, no, più che minaccia, giudica Erode, il re Erode, il re Erode era il re a quei tempi dei Giudei, no, il re Ode Antipa, no, e che è vissuto, è morto più o meno nel 40. Se potete chiudere il microfono, per piacere siamo già, abbiamo già cominciato a, va bene? Che no, rimedenziale. Scusate Paola, se puoi chiudere il microfono, per piacere stiamo parlando, ok? Grazie. Dunque, il re d'Israele, Erode Antipa, aveva una moglie che in realtà era la moglie di suo fratello, però siccome la voleva fare sua, porta con sé la moglie e anche la figlia, che si chiama Salome, una ragazza molto bella. E qui abbiamo la vicenda in cui, documentata nei Vangeli, in cui il Battista ammonisce Erode dicendo non puoi prendere con te la moglie di tuo fratello e sua figlia, stai facendo una cosa immonda. Però Erode aveva paura di Giovanni Battista, perché pensava avesse dei superpoteri, fosse un veggente, fosse un indovino, e quindi lo temeva, ha paura. E invece la moglie Erodiade e la figlia Salome lo odiano a morte. Fino a che si sa che avviene questa cosa, che Salome balla e impreda i fumi dell'alcol, Erode, e gli chiede a Salome, dimmi, chiedimi qualsiasi cosa tu voglia, io te la darò. E Salome chiede, Salome chiede la testa di Giovanni Battista su un vassoio. e ahimè, siccome non si può tirare indietro, lo deve uccidere, anche se Erode non avrebbe voluto perché lo temeva. E la decapitazione di Giovanni Battista avviene. Ecco, vedremo che questa uccisione del Battista è una compensazione di qualcosa che lui aveva fatto in un'altra vita. ma per poter capire quello che è accaduto ora dobbiamo andare indietro in una vita precedente del Giovanni Battista. E la vita precedente del Giovanni Battista noi la ritroviamo nell'incarnazione del profeta Elia, il cosiddetto Tisbita. Spesso viene raffigurato con un corvo nel deserto, vestito di pelle, si nutre di miele, di locuste, un essere un po' burbero, un vero e proprio eremita, ecco. Si racconta, allora, prima di tutto, questa Elia vive più o meno nel nono secolo avanti Cristo sotto il re Acab. Noi sappiamo questo perché nella Bibbia c'è un libro che si chiama Il libro dei re in cui ci vengono raccontate queste vicende del profeta Elia. Praticamente ha anche lui dei superpoteri, ha riusciuscita a direttore un bambino, sotto il regno della regina Jezabele, la moglie di Acab. e praticamente lei voleva instaurare un nuovo culto che era appunto il culto del Dio Baal. Però in realtà Elia fu l'unico che rimase fedele al culto di Abramo, del patriarca, no? E sfidò su una montagna 450 profeti del Dio Baal sul monte Carmelo, che è un monte della Palestina. Però in realtà riuscì come a accendere il fuoco senza l'uso di nessun fuoco, ad improvviso Dio le accese una pira e riuscì a guadagnarsi la fiducia del popolo al punto che il popolo lo aiutò a uccidere tutti 450 sacerdoti di Baal. Per sfuggire a questa ira di Jezabele, che venne a sapere, fugge sul monte Oreb, si nasconde e qua comincia a parlare con Dio. Vi voglio leggere questo passo perché è molto bello. e si dice addirittura che quando morì venne portato in cielo con il corpo. Un carro di cavalli di fuoco lo portarono in cielo. Non fu mai trovato il suo corpo. Ecco, dalla Bibbia abbiamo questo brano che dice Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì Elia si coprì il vonto con il mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco venne a lui una voce che gli diceva Che cosa fai qui, Elia? E questo è un incontro appunto chiaroveggente con Dio. Inoltre noi sappiamo che Elia appare con Mosè al cospetto di Gesù quando c'è la trasfigurazione. Nella trasfigurazione, adesso ovviamente sono passati 800 anni, ovviamente nel mondo spirituale, ritorna e appare a Gesù. Ecco, una citazione di Elia e di capire che vi è un collegamento fra l'incarnazione di Elia e Giovanni Battista ce l'abbiamo in questo. Nelle scritture antiche, in Malachia, nel profeta Malachia, viene detto Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande, spaventevole dell'Eterno. Ecco, in tutti gli ebrei, in tutti i rabbini, si sapeva che quando sarebbe arrivato il Messia sarebbe tornato Elia dal regno dei morti e lui avrebbe indicato chi è il Messia. E' per questo che nei Vangeli, 800 anni dopo, i discepoli lo interrogano in Cristo e gli dicono come mai gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù risponde Elia veramente deve venire e ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto. Anzi, l'hanno trattato come l'hanno voluto, l'hanno decapitato. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte di loro. Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista. Quindi vedete che c'è proprio una giustissima e chiara riferimento che Elia è la reincarnazione di Giovanni Battista. Quindi è il contrario, scusate, che Giovanni Battista è la reincarnazione di Elia. Se ci volgiamo verso il futuro vedremo altre incarnazioni, ma questa decapitazione che avviene in questa vita del profeta Elia e l'incarnato in Battista è dovuta al fatto che deve compensare i sacerdoti che sono stati uccisi. Quindi il karma non perdona. Le future reincarnazioni di Elia Battista le troviamo in Raffaello Sanzio e Novalis. Raffaello Sanzio è il pittore e Novalis è un poeta. Dicevo all'inizio che il Battista è il precursore dell'io individuale, voce di uno che grida nel deserto. Questa affermazione significa che l'individuo a quei tempi, in questo caso Battista, sente delle cose che il popolo non sentiva. Per noi è strano dire che ci possa essere qualcuno che sente delle cose diverse, perché tutti crediamo di sentire più o meno la stessa coscienza, ma no, il Giovanni Battista non sentiva quello che avvertivano gli altri del popolo. Il popolo si sentiva legato alla stirpe, si sentiva legato ad Abramo, ad Adamo. Lui no. Lui si sente che dentro di sé da solo. Perché dico questo? Per noi è consuetudine avere una memoria e diciamo io a quello che abbiamo fatto durante la vita. Pensiamo alla nostra adolescenza, all'infanzia, alla pubertà e vediamo la nostra vita come il documento che attesta che noi siamo un io. In altre parole diciamo io ai nostri ricordi. Se non avessimo i nostri ricordi noi avremmo un grave problema di identità. Non potremmo dire io. Non sto dicendo che noi siamo i nostri ricordi, ma grazie al fatto che abbiamo una memoria possiamo in qualche modo appoggiare la nostra coscienza e dirci io. Ecco, prima di Giovanni Battista non era così. Se noi analizziamo le coscienze di quelli che vivevano prima di Battista, gli Egizi, i Caldei, i Perziani, quando guardavano dentro la loro coscienza, io vi prego di fare un attimo di, diciamo, di cercare di ipotizzare qualcosa di possibile, perché di solito la psicologia ci dice che abbiamo tutti la stessa coscienza, ma la coscienza non è sempre stata uguale. Più si va indietro, più l'uomo aveva una percezione di sé e del suo mondo interiore diversa. Dicevo, quando un antico ebreo pre-Battista si guardava dentro, non vedeva solo la sua biografia, ma comparivano anche le azioni di Abramo, di Enoch, di Mattusalemme, dentro la sua coscienza, come se lui avesse in qualche modo partecipato della vita degli altri. C'era come una continuazione che veniva ereditata attraverso il sangue che permetteva che anche i ricordi dell'individualità di prima fluissero. Ecco, questo ovviamente non dava una coesione forte come quella che ha l'uomo d'oggi, che può dire io solo a se stesso. No, si diceva Dio, io, scusate, anche agli avi. Io e Abramo siamo uno, in me vive Abramo, io conosco Abramo non perché l'ho insegnato a parlare, ma perché lo vedo e i suoi ricordi fluiscono in me. Ecco, Giovanni non sente più questo. Lui sente, sono solo. Ci sono solo io, sento solo il mio mondo, sono nato in questa vita e non conosco le altre vite, non conosco niente degli altri. È il primo che ha questa esperienza, diciamo, anticipata, di quella che poi diverrà patrimonio di ogni essere umano, che diventerà normalità. Ecco, è molto importante che voi capiate questa cosa, perché noi dobbiamo pensare che c'è stato un progresso, cioè che l'io, come lo sentiamo noi adesso, è un processo che si è piano piano prodotto, si è individualizzato, l'uomo si è, come, intimizzato, ha raccolto in sé il suo io, fino a fare scomparire tutte le memorie per poter dire soltanto io a se stesso. Adesso cercherò di farlo, ve lo vedere in un altro modo. Qui ho scritto l'individualizzazione dell'io dell'universo, che in questo caso è Dio, nell'io dell'uomo. Quando dirsi io è, era, una cosa molto rara. Quindi, Steiner ci dice che tutto il cammino dell'uomo è da intendersi come la preparazione da parte della direzione spirituale del cosmo di un essere, che è l'uomo, che conseguisse la capacità di potersi afferrare come un io singolo. Cioè, la grande novità che è accaduta, potremmo dire, così all'improvviso, è che a un dato momento, cioè, la forza cosmica, quella che regge la gravitazione universale che muove tutte le galassie, sente la necessità di sviluppare in sé è una coscienza che è capace come di autoesaminarsi, di autoosservarsi. Quindi è come se Dio, se la forza universale reggente il cosmo, sentisse il bisogno di creare certe condizioni per prendere coscienza di sé, non come essere universale, ma come oggetto. Ecco, per fare questo, la legge esteriore di configurazione e mantenimento responsabile dell'ordine dell'universo volle diventare legge interiore morale umana responsabile dell'equilibrio dell'amore e della libertà. Quindi vedete che c'è un processo cosmico che vuole entrare in un punto e percepirsi da quel punto. Ovviamente chi è quel punto? È l'uomo. Quindi noi potremmo dire che Dio non è affatto una religione, non è qualcosa di religioso, è un viaggio che ci siamo fatti noi per misticamente. Dio è un fatto cosmino che ha voluto diventare un fatto umano. C'è la coscienza universale che abbraccia tutto l'universo, ha voluto osservare se stessa da dentro un punto, come se volesse da quel punto osservare la periferia. Quindi qualcosa che è periferico si è concentrato, si è incarnato, incorporato in un corpo ed è diventato uomo. Quando si dice che il logos si è fatto uomo non è soltanto Gesù, non è soltanto il Cristo. Il potere del figlio, cioè del Dio del figlio che crea l'universo entra nell'umanità e entra nel processo di identificazione, di auto-osservazione di se stesso. Un'immagine è anche questa, l'aveva già data ovviamente trismegisto nel testo appunto la pupilla del mondo. Praticamente in questo testo viene detto che Dio creò la terra l'umanità perché aveva bisogno di un occhio, di una pupilla in cui potersi specchiare e poter guardare il suo viso. Ovviamente è una metafora, però è come se la coscienza dell'uomo, la coscienza dell'umanità fosse il modo di Dio, della forza universale, centripeta dall'universo di poter afferrare se stesso con un'auto-percezione. Quindi il processo di quello che noi chiamiamo il cristianesimo non è per niente una religione, è un evento cosmico, un Dio che vuole diventare uomo e della prospettiva dell'uomo consegnare al cosmo questa nuova evoluzione. Uno potrebbe dirsi ma perché tutta questa fantasmagorica illustrazione? Perché a Dio mancava un'esperienza di afferrarsi da un punto centrale. Dio è tutto e comprende tutto. Ha dovuto come creare un'occasione di separazione estraendo l'umanità da se stesso ponendosela contro potremmo dire affinché poi la stessa umanità potesse servire come specchio come modo per entrare nell'umanità e trovare se stesso. Se volete un'allegoria più mistica Rumi diceva che negli amanti per esempio fra l'uomo e la donna Dio gioca a nascondino con se stesso prima sta nell'uno sta nell'altro e si percepisce dentro e fuori è come se l'eros se come la parola desiderio fosse la volontà di Dio di cercare di afferrare se stesso in un'esperienza umana e tutto quello che noi adesso andremo a vedere ha a che fare con questo questa realizzazione il Cristo è il compimento di questo piano ecco il nome dell'io è qualcosa di impronunciabile all'angelo l'arcangelo le arcai non si può dire io nel cosmo l'angelo quando osserva fuori di sé non dice mondo no dice quello l'ho fatto io quello l'ho costruito io quello l'ho partecipato io un po' come se avesse arredato avesse creato il suo mondo e si sentisse parte del suo mondo quando noi siamo in casa nella nostra casa che abbiamo comprato e arredato quella è casa nostra è il nostro mondo ecco quando l'angelo guarda fuori dice io a quello che ha creato e fra le sue creazioni c'è anche l'uomo quando l'uomo pensa l'angelo sente una parte di sé che si muove sente qualcosa che in lui si manifesta ecco e quando l'angelo invece cerca se stesso dice io questa parola non esce dalla sua bocca dalla sua mente ma si traduce in Dio e quindi cade cade in una coscienza di beatitudine si perde in una meravigliosa dolcezza e fragranza beata annullandosi quindi l'angelo l'arcangelo non ha mai l'esperienza di poter afferrare se stesso in un'autopercezione perché deve per forza trassalire ed effondersi in Dio e quando guarda fuori dice io al mondo quindi il mondo è un io e il suo mondo interiore il suo io è Dio Dio dentro io fuori vedete com'è capovolto ecco il concetto dobbiamo familiarizzare un po' con queste cose so che vi faccio fare fatica io stasera adesso vi voglio fare fare un bel un bel giretto ecco quindi tenetevi stretti ecco voglio rifargli fare qualche capriola ecco prima di tutto vi faccio vedere il prologo che è il processo di incarnazione di realizzazione del progetto di autoosservazione di Dio dall'interno dell'uomo non so come è venuta sta frase però ha un senso forse adesso me la riascolterò questa è la lingua con cui Giovanni ha scritto il logo in principio era il logos il logos era presso Dio il logos era Dio pensate la parola archè già ci dice che il logos era negli spiriti del tempo nelle archai nelle archai era il logos nelle forze del principio o ancora meglio nel principio entro ciò che è l'essenza del padre spirito è il logos il principio non è soltanto una locuzione temporale è anche un'essenza è il principio di tutto contiene la quinta essenza del mondo quindi in principio era il logos dentro il padre e non era ancora manifesto il logos era dentro Dio e non era Dio non aveva ancora parlato non aveva ancora emesso la parola il logos era dentro Dio quando noi parliamo il logos esce la parola esce e diventa suono non era ancora suono il logos era Dio il logos era ancora in manifesto perché Giovanni adopera la parola logos perché la parola logos in greco vuole dire tantissime cose in principio era il verbo in principio era la parola in principio era l'idea in principio era la sapienza in principio era la dinamica in principio era il suono in principio era la musica la musica era presso Dio la musica era Dio vedete come è diverso dirla in questo modo però un greco quando dice la parola logos dice tutte queste parole è come se il logos contenesse tutte queste parole quindi in principio abbiamo scelto parola e verbo in italiano perché sono quelle che assomigliano di più a un misto di tutto questo però non è la parola giusta per esempio Luca nel Vangelo dice poiché molti si sforzano di riferire gli eventi compiutesi fra noi come li hanno tramandati i testimoni oculari i servitori del logos scritto nella parola è parso anche me di scrivertene o teopio quindi chiama Cristo parola logos tra di loro i discepoli parlavano dov'è il logos non dicevano dov'è Gesù dov'è il logos ovviamente quando l'hanno riconosciuto non accade subito noi potremmo dire che il logos che viene tradotto come parola e verbo è il movimento che Dio usa per creare il mondo sapete che Dio usa la parola per creare il mondo Dio disse sia la luce e luce fu questa è proprio l'affermazione base quindi Dio deve parlare ma per parlare ha bisogno di emettere una vibrazione e quando compiamo dobbiamo fare una frase di senso compiuto anche noi come soggetto dobbiamo fare un verbo e questo verbo va a produrre ad agire su un predicato verbale noi potremmo dire che il soggetto è il padre che rappresenta la volontà in potenza il verbo logos o parola è il figlio che è la vita che si attiva è come la volontà vibratoria del padre che diventa suono e il predicato è invece lo spirito santo che diventa la sostanziazione di questo processo questo processo da cui proviene il mondo è composto di tre momenti il padre potenziale che ha in sé l'onnipotenza è il reggitore di tutte le leggi immutabili poi c'è l'essere del figlio che si manifesta e trasforma questa onnipotenza in amore in armonia in vita e agisce anche dentro l'uomo vedremo lo spirito santo invece è ciò che rende visibile e percepibile la creazione portando a compimento la libertà umana ecco vediamo un attimo ma Gesù è il figlio è il logos è il Cristo e cosa c'entra l'io con questo figlio con questo logos con questo Cristo ecco il Cristo è un principio è il principio creante non solo per creare il mondo sapete che il figlio viene deriva certo dal padre ma mette in moto la creazione è il principio ma è anche colui che può essere il fondatore dell'autocoscienza in noi prima vi ricordate che ho detto che Dio voleva trovare se stesso dentro l'uomo tramite l'uomo in Giovanni l'ottavo capitolo viene detto gli chiedono al Cristo chi sei e lui risponde il principio che parlo a voi pensate che risposta io sono il principio che parlo a voi quindi la potremmo dire l'essenza primordiale l'essenza archetipica poi in Marco all'inizio proprio del Vangelo viene detto principio del Vangelo di Gesù Cristo non l'inizio in questo testo è contenuto il principio del Vangelo di Gesù Cristo quindi noi abbiamo tre nomi figlio logos e Cristo noi potremmo dire che questi tre nomi sono tre manifestazioni sono tre livelli diciamo di di apparizione del Cristo figlio logos ora quando noi diciamo figlio abbiamo a che fare con ciò che è il Dio delle stelle la forza di configurazione cosmica che vive nelle costellazioni zodiacali ecco quando invece diciamo logos questo logo si restringe adesso noi vi potrei dare questa immagine il figlio è la forza che opera in ogni stella quando noi guardiamo l'universo ogni stella pulsa di luce di vita dentro un sistema solare come il nostro ogni stella che vediamo in realtà è un sistema solare che ha altri pianete ovviamente e il figlio è ogni stella di quel sistema solare ogni stella e ogni stella dà calore e luce quando opera come essere che vive in ogni stella viene chiamato potere del figlio la seconda persona della trinità quando entriamo in un sistema solare ci rivolgiamo a una stella singola come il sole quindi restringiamo la cosa dentro a una stella che è il sistema solare in cui viviamo allora cambia nome non è più il figlio ma diventa il logos il logos è quella manifestazione del figlio che abita un sistema solare quando un sistema solare viene preso in esame non è più il figlio ma è il figlio che si fa logos e diventa quella forte che crea la vita crea la diciamo l'illuminazione perché il sole illumina anche e dà la vita ai pianeti ed ha anche la consapevolezza del fatto che esiste una creazione adesso vedremo perché quando questa forza da stellare solare penetra nell'uomo allora diventa un dio della terra diventa una forza che opera come capacità di illuminare la coscienza dell'uomo dentro il suo spirito vitale e gli dà la possibilità di avere dei pensieri autocoscienti quindi la forza che fa brillare le stelle che entra nel sole e dà calore e vita è la stessa forza che nel nostro pensiero regge la temperatura del corpo e illumina la nostra ragione quindi è un evento praticamente cosmico solare umano è la stessa forza che ha tre livelli nelle stelle è figlio nel sole logos quando compare nell'uomo in modo cosciente si chiama Cristo quindi potenzialmente ogni uomo è un Cristo e ovviamente il figlio come vita delle stelle è anche la forza che ha configurato il mondo che ha creato il mondo quindi il figlio come vita delle stelle si chiama forza galattica zodiacale quando invece è stella singola è vita della stella del sole quindi è logos e quando invece entra nell'uomo diventa vita nell'uomo è la stessa forza la forza che muove le stelle che le dà vita che le genera e le dà luminosità e calore è la stessa che pulsa nel nostro petto ecco questo è un fatto incredibile penso una bella scoperta cioè non è una cosa poco profonda questa non è una religione è un fatto è una constatazione del fatto che in noi pulsa la vita universale la vita universale si è voluta piano piano manifestare all'interno dell'uomo Dio non è sparito Dio si è ritratto dentro all'uomo e vuole che l'uomo testimoni della sua esistenza quindi non è l'uomo che cerca Dio l'eterna ricerca di Dio quanti libri è l'eterna ricerca dell'uomo cioè è Dio che sta attendendo che l'uomo si accorga di lui è Dio che ha bisogno dell'uomo affinché testimoni della sua esistenza nel macrocosmo il Cristo è il figlio che appartiene alla seconda persona della trinità ripeto nel microcosmo dentro l'uomo rappresenta il secondo aspetto dello spirito divino dell'uomo quello che noi chiamiamo in antroposofia il Budi o lo spirito vitale ovviamente la realizzazione lo sviluppo dell'uomo in spirito vitale è il compimento il ritrovamento dell'uomo che dice ho il Cristo in me quando Paolo dice non io ma il Cristo in me quindi non io ma il mio vero io che è Cristo significa che un individuo ha realizzato lo sviluppo dello spirito vitale in sé non io ma il vero io dovrebbe dire non io ma il Cristo in me se guardiamo la nostra costituzione occulta vedremo che noi siamo fatti di tre elementi potremmo dire corpo fisico corpo eterico corpo senziente anima senziente anima razionale anima cosciente sé spirituale spirito vitale uomo spirito vedete che lo spirito vitale è il secondo arto spirituale divino che è informazione quando un uomo è incapace di far questo trova sviluppa realizza si accorge di essere un dio si accorge di avere un io che è della stessa natura di dio quindi non è più un mortale smette di essere uomo mortale diventa immortale ovviamente è tutta una cosa da sperimentare ecco quindi avere il Cristo in me significa non io ma il Cristo in me l'attivazione del Budi significa sorpassare e superare la nostra egoità ovviamente per far questo dobbiamo seguire gli impulsi universali che promagano dallo spirito vitale che sono gli stessi modelli archetipici che vivono nel logos quindi quando noi siamo ispirati dallo spirito vitale in realtà siamo identificati con la nostra coscienza con il creatore del mondo noi diventiamo dei co-creatori e non abbiamo più dei pensieri contingenti umani non ci interessano più le cose umane ma ci interessano le cose di tutto il cosmo di tutte le galassie e di tutto il divenire del cosmo quindi diventiamo di una grandezza che non si può contenere il manas è lo spirito santo ed è la facoltà della libertà che l'uomo deve individualizzare il budi è invece è il figlio è la facoltà dell'amore che deve essere individualizzato parlo dell'amore universale della libertà universale il padre è l'onnipotenza è l'onniscienza che si può individualizzare quando io realizzo la libertà in me che significa la liberazione da tutto ciò che adesso credo che sia uomo e divento realmente un essere divino allora sono libero perché l'uomo viene sulla terra che non è libero viene sulla terra pieno di limiti e quando supero i miei limiti mi accorgo di essere diventato uno spirito e se io riesco ad amare tutti allo stesso modo emanando fraternità in tutto il mondo realizzo la facoltà del budi che è l'amore dell'universo che si è individualizzato in me se arrivo a conoscere tutto e a poter tutto poter fare tutto ma non faccio nulla perché ho tutto allora realizzo il potere del padre torniamo un attimo al Vangelo in principio era il verbo il verbo era Dio il verbo era presso Dio quindi qui non si è ancora manifestato il logos ecco Steiner dice che nel principio era la parola e la parola era presso Dio la parola era Dio Giovanni non dice all'inizio vi era la parola ma nell'inizio dentro l'inizio vi era la parola che significa all'inizio di tutto ma anche dentro al principio universale egli era nel principio presso Dio quindi in questo momento tutto è ancora occultato che vuol dire che questo è il padre è un punto cosa significa questo punto è un punto unidimensionale un punto non ha nessuna grandezza non ha volume non ha aria non ha lunghezza non ha peso è addimensionale il punto rappresenta l'infinito che contiene il tutto in sé ecco nel principio in questo punto era contenuta tutta la creazione in germe ancora non manifesta ma da dove veniva questa creazione viene creata in quel momento no quel punto in realtà è un seme è il seme derivato da un'evoluzione precedente un enorme albero è morto ha prodotto un seme è caduto sulla terra e questo seme è il resoconto il frutto di un'evoluzione che è accaduta prima che noi esistessimo e accadrà quando noi non esisteremo più come uomini noi saremo in un seme che diventerà una nuova evoluzione quindi il punto è il seme di una nuova informazione che sarà destinata a una nuova da dove è provenuto potremmo dire è una sorta come di respirazione di Dio noi qua ci troviamo nel nostro sistema solare quello centrale siamo esattamente nel quarto quadrato verde noi siamo provenuti da altre evoluzioni e noi andremo in altre evoluzioni il punto iniziale si trova qui è l'assorbimento cioè come l'ispirazione che Dio ha fatto del precedente evoluzione che viene di nuovo emanata fuori e qua nasce il nostro sistema solare ma Dio respira continuamente ogni respiro è un'evoluzione sono miliardi di anni un respiro di Dio dura miliardi di anni prima ho detto che Dio parla usa la parola il figlio per creare il mondo il suono diventa luce sapete che il suono quando si propaga se con un diapason come questo facciamo così questo è un 440 vibrazioni al secondo noi non le vediamo però c'è un'emanazione a sfera di un suono che fa il suono si muove globularmente come nello stagno quando si lancia un sasso ecco questo è accaduto quando Dio ha parlato quel punto ha cominciato a squillare si è ha suonato e questo suono si è diffuso il suono che si diffonde è il logos è la parola è il suono di Dio che esce da quel punto e diventa vibrazione quella vibrazione vibra e compenetra tutto l'universo e l'universo comincia a diventare sostanza di creazione delle galassie ecco tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste qui vedete da quel punto una forza di radiazione si muove le onde si propagano e questa propagazione che è il figlio logos Cristo che crea quella che è la vita e l'aria e viene detto in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini questa è una cosa bellissima che cercheremo di capire qui il suono e la luce della coscienza vanno come estendersi nella periferia in questo caso della Via Lattea e ogni punto che noi vediamo non è nient'altro che il riflesso di quel punto centrale che appare come in una grandissima sfera specchiata abbiamo una sfera di specchio in cui il punto centrale si proietta ecco la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno accolta ecco che viene il momento in cui l'uomo entra nella fase terrestre e ovviamente entra in contatto col fatto che non gli è possibile accoggersi che in Lui esiste la luce lui dice vedete parla la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno accolta cioè la luce c'è sempre in noi c'è questa luce questo potere radiante di pensiero questo polore galattico solare e questo cristoforo in noi c'è sempre e noi lo usiamo per fare delle cose sciocche per fare delle cose di tutti i giorni quando arriviamo ad accorgersi che il nostro pensiero c'è un Dio che parla che la stessa forza che ha creato il mondo vive nel nostro pensiero allora la qualità della vita può cambiare il primo che si accorge di questo si chiama Giovanni Giovanni Battista è quello che si accorge che è lui c'è il potere di Dio venne un uomo mandato da Dio il suo nome era Giovanni Battista perché stasera noi dobbiamo parlare di lui stiamo parlando di lui tutto questo giro tutte queste capriole che vi ho fatto fare è perché Giovanni Battista è l'annunciatore di questo sole che adesso sta crescendo sempre più nei cieli ma in realtà è qualcosa che vive dentro di noi è qualcosa che in realtà dovrebbe essere nato a Natale e adesso si sta aprendo si sta espandendo è come se volesse che noi ci accorgessimo che in noi c'è un sole ecco questa frase molto bella adesso prima non vi ho spiegato questa frase in lui era la vita e la vita è la luce degli uomini che è quella luce che ovviamente poi cercherà il Battista questa vita del sole è la vita che produce la vita sulla terra ma è anche la luce che illumina la terra così come produce la nostra vita del corpo e la illuminazione del nostro pensiero abbiamo un sole dentro il nostro petto il nostro cuore è una specie di sole dentro il nostro sistema corporeo che produce la luce del pensiero quindi noi siamo dei micro logos in questo caso ecco Giovanni venne come testimone per rendere testimonianza alla luce che vuol dire questo? Giovanni si accorge che dentro di lui c'è la luce che dentro di lui c'è il potere di radiazione e gravitazione universale che in lui si tramuta in facoltà cosciente di essere e lui lo vuole dire a tutti lui viene a testimoniare di questo fatto di questo fatto cosmico che vive dentro di lui ed è diventato cosmo cioè lui è un piccolo cosmo nel deserto che dice voce di uno che grida nella solitudine deve venire uno dopo di me che è esistito prima di me e dice venne a testimoniare a rendere testimonianza qual è la testimonianza che possiamo dire noi della luce? cosa c'è di più evidente che noi abbiamo un pensiero cosciente non è luce quella possiamo negare noi che nel nostro pensiero non ci sia la luce non ci sia la vita come si fa non c'è bisogno che ci sia un altro che testimoni per noi se non noi stessi abbiamo un potere di autoosservare questo processo possiamo accorgerci di essere testimoni di un processo divino il nostro pensiero è un atto divino non è chimica il nostro pensiero è magia dell'universo che si manifesta in immagini e in parole noi quando pensiamo riproduciamo in piccolo l'atto della creazione primordiale e lui dice Giovanni è il primo che se ne accorge per quello dicevo quando un uomo si accorge di essere di avere in lui il potere di Dio è un Giovanni Battista venne perché tutti credessero per mezzo di lui cioè che tutti potessero cominciare ad avere questa testimonianza ecco egli non era la luce cioè non è Giovanni il principio dell'io non è la galassia ma doveva testimoniare della luce quindi si può dire Steiner dice che Giovanni arrivò alla reminescenza dell'io per portare testimonianza riguardo alla luce che accolse in sé Giovanni incarnò la testimonianza fu il primo che disse in me vi è un potere di luce che si chiama io quindi Giovanni entrò dentro la testimonianza è il primo individuo che sente la presenza in sé di un io di luce e testimonia diviene lui stesso testimone di essere un portatore di luce interessante questa frase veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo questa è una frase meravigliosa nel senso che stava venendo dal cosmo dal sole qualcosa che sarebbe entrato dentro l'uomo in Giovanni ne ha il presentimento che si chiama io questa luce vera è il principio dell'io della coscienza dell'io che è la responsabilità morale etica del mondo che vuole affiorare dentro l'uomo perché noi si dice abbiamo siamo coscienti e incoscienti incoscienti quando facciamo delle cose amorali quando facciamo delle cose non etiche la coscienza è un fatto cosmico è un fatto di giustizia universale stava venendo nel mondo ai tempi di Giovanni la luce dell'io quella che da dentro dell'uomo gli dà il potere di capire di comprendere di essere divino cosa vuol dire essere illuminati vuol dire percepire direttamente essere coscienti di avere un potere di irraggiamento quindi il Cristo non è soltanto l'uomo di Nazareth con la barba è un principio di luce divina che fa parte certo dell'essenza dell'uomo e adesso è diventato parte della costituzione occulta è quella che noi chiamiamo l'autorità spirituale il reale testimone buddista interiore davanti alla vita è ciò che permette all'uomo di testimoniare di essere lui stesso un Dio e non solo un portatore di Dio ma di percepirsi come una reale entità preveniente dentro il mondo spirituale voi sapete che in quasi tutte le lingue la parola io è fatta così è verticale ci può essere una I ci può essere una Y ci può essere una Y però guardate quante lingue hanno una verticale come se l'io fosse un potere che dall'alto scende giù scende attraverso la spina dorsale una casa il serpente è l'immagine il caduceo per esempio è l'immagine del potere dell'io il Vangelo continua e dice egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo riconobbe venne fra la sua gente ma i suoi non l'hanno accolto a quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare i figli di Dio a quelli che credono nel suo nome cioè coloro che si accorgono per esperienza reale di avere un io che è della stessa natura di Dio sono figli di Dio quindi sono esseri che acquisiscono l'immortalità l'infinità l'onipotenza l'onniscienza ovviamente come potenziale questi sono esseri che si accorgono che non sono nati dalla carne ma la carne è un supporto che tutto ciò che vivono è soltanto qualcosa che serve per ritrovare la manifestazione di Dio dentro loro stessi e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi questo processo del verbo che si fa carne è qualcosa che accade in ognuno di noi non soltanto in Gesù e noi possiamo vedere questa gloria possiamo vedere che deriviamo da un padre solo essere unigeniti vuol dire che non siamo esseri umani che veniamo da due genitori non siamo tutti gli umani sono bigeniti perché hanno due genitori provenire dallo spirito significa essere unigeniti e abbiamo in noi il potere della conoscenza che è la verità e la grazia il potere della liberazione perché la grazia si dà quando si vuole liberare un prigioniero ecco io adesso non mi dilungo ancora su questo perché sarebbe ancora molto da dire però voglio ritornare un po' a esaminare un po' questa connessione con Uriele poi vi lascio la parola perché voglio anche confrontarmi con voi Uriele è l'arcangelo che ha questo legame con Giovanni Battista perché Giovanni Battista è in qualche modo colui che è collegato con l'estate nasce il 24 giugno che è appunto il tempo dell'estate il sostizio dell'estate Uriele regge nel tempo del Battista ecco e vi è potremmo dire un legame fra il potere di distruzione e di creazione dell'uomo perché l'uomo può essere un creatore ma anche un distruttore in cui Uriele vuole in qualche modo entrare a essere partecipato e poter gestire con un'ammunizione Stanley dice che esiste un centro nel plesso solare dell'uomo che è collegato col potere di distruzione al centro della terra ed è un potere che noi usiamo solitamente per elaborare i cibi per rinnovare il corpo ma è un vero e proprio acido che distrugge le sostanze ecco questo potere di distruzione noi possiamo usarlo non solo per rinnovare il nostro corpo ma per fare del male agli altri quando usiamo queste forze che sono forze che operano dal centro della terra possono diventare un potere tellurico capace di scatenare addirittura dei terremoti dei maremoti quando un popolo intero quando un continente intero fa dei pensieri negativi attrae delle forze dal sottosuolo che poi vanno a creare dei cataclismi dei nubi fragili a creare delle catastrofi che sono collegate come se noi diventassimo dei recettori per le forze oscure legate al fuoco terrestre e queste usano noi stessi per emergere siamo noi che attraiamo potremmo dire i terremoti e i disastri per non parlare delle pandemie ma quello lasciamo stare lasciamo ad altri questo compito Uriele in qualche modo è colui che in estate ci ammonisce ricordate questa immagine Steiner dice che in estate con il calore c'è un'effusione dal centro della terra di vapore sul furio il calore si mischia sulla terra e questo calore verdastro che la gente vede sono le forze arimaniche che si avvicinano all'uomo e lo tentano per fargli perdere la connessione col divino mai come in estate siamo soggetti a perdere la direzione della nostra vita siamo innubilati siamo espansi il nostro corpo eterico si ingrandisce ci ingigradisce perdiamo la percezione di noi stessi e quindi diventiamo più più leggeri più meno profondi infatti in estate si fa tutto quello che non è legato alla concentrazione non si fanno progetti non si pensa non si matura non si fanno scelte perché è il momento in cui ci si adagia si fa prendere dal caldo a quello che è il potere arimanico Uriere dice non fate questo perché i vostri pensieri i vostri pensieri di abbandono diventano dominio di Arimane e Arimane usa questi pensieri per distruggere le sottotterranee della terra i vostri pensieri possono come diventare dei cunei che vanno a forare la terra la fanno cedere la fanno sprofondare sprofondano i maremoti i terremoti e la causa di molti fatti tellurici provengono da volontà umane di male ma anche volontà di male legate all'indifferenza l'indifferenza è peggiore dell'odio perché l'indifferenza è il contrario dell'amore e quando si diventa indifferenti si produce il male assoluto così come quando si perde la libertà e si è contenti di far parte di qualcosa che ci rende schiavi di un sistema questo è il male perdere la libertà l'autonomia forse per una causa che può sembrare anche legittima è il male perdere l'amore e diventare insensibili è il male perdere l'amore e la libertà è rendere gloria ad Arimane e Lucifero Lucifero è colui che ci vorrebbe dare una libertà illusoria e Arimane è colui che ci vorrebbe dare una vita senza amore ecco io adesso mi interrompo perché vorrei condividere abbiamo detto tante cose penso che ne abbiamo dette tante no? ci siano tanti elementi diciamo per poter in qualche modo casomai sentire anche le vostre impressioni ecco io sono molto curioso di sentire quante capriole avete fatto se ne avete fatte e che tipo di reazione avete avuto se vi fa piacere dire qualcosa cioè aggiungere qualcosa e anche fare qualche domanda ecco volentieri mi rendo conto che qualcosa il tutto spiazza un po' eh però io questo messaggio lo sento proprio come qualcosa di grandioso e forse capisco anche perché gli apostoli quando andavano a predicare avevano questo entusiasmo perché loro sapevano che il cosmo voleva diventare uomo che Dio aveva bisogno dell'uomo per diventare uomo ecco allora faccio io una domanda che impressione vi fa togliere di mezzo tutta la religione tutto il cattolicesimo tutto quello che ha a che fare con il misticismo per ritrovarvi in un principio universale che diventa un principio umano che effetto vi fa pensare che Dio vuole parlare da dentro dell'uomo vuole che in qualche modo in modo attivo in modo spontaneo l'uomo si accorga che Dio vuole essere parte di lui a me se posso dire fa un effetto non so come dire di spiazzante di paura quasi non so perché di paura anche il fatto quando hai detto dell'infinita evoluzione che poi finita questa nostra evoluzione si riassumerà il tutto e ne ricomincerà un'altra non so dirti perché a me fa un effetto comunque spiazzante più di paura che di gioia non so perché mi sa quasi di annullamento non lo so di scomparsa individuale ecco questo è quello che sento no non c'è nessuna scomparsa San Paolo parla di una grande gloria l'uomo diventerà diventeremo San Paolo dice che un giorno giudicheremo gli angeli cioè con questa coscienza umana saremo in una gerarchia quindi non perderemo l'individualità anzi la stiamo conquistando per portarla nello spirito e quindi vivremo questa vita nello spirito come gerarchia spirituale capace di condurre una nuova evoluzione è ovvio che fa girare la testa un ruolo del genere sì però è un ruolo che dà anche molto significato che appaga che completa diciamo che porta a una visione a 360 gradi ecco magari si perde una parte come dire più terra terra però si acquista una sensazione globale che dà significato che dà valore aggiunge valore a tutto ciò che finora abbiamo potuto percepire io devo fare una domanda visto che è una domanda no scritta come volevi parlare volevi chiedere qualcosa sì volevo poi io non riuscivo a connettermi buonasera a tutti buonasera non ho sentito i primi dieci minuti forse quindi forse ho perso qualcosa hai spiegato qualcosa sull'immagine della Madonna con Uriele e con Gesù forse quello se avevo perso qualcosa di importante poi per il resto diciamo che è stata una faticata ma più o meno ho capito tutto grazie sempre gentilissimo grazie grazie purtroppo adesso non posso ricapitolare casomai comunque ci sarà un video registrato che casomai io vi rimanderò vi posso mandare il link e poi potete rivederlo chi non ha visto la prima parte può rivederlo ecco non mi sembra il caso di riprenderlo perché se no ecco no Simonetta volevi dire qualcosa? mi sembrava che avessi aperto sì buonasera Tiziano e guarda l'impressione che faccio di me è che finalmente sono delle spiegazioni che risuonano in me che che non fanno una piega perché la religione così come ci viene diciamo la religione ufficiale come veniva insegnata ma fin da quando ero bambina dicevo ma non ha senso non non c'era una logica e invece l'incontro con con Steiner con l'antroposofia con le spiegazioni che fai tu rielaborando il pensiero di Steiner finalmente capisco ed ha tutto senso è come se il puzzle si si completasse ed è tutto è tutto chiaro è tutto niente è una grande felicità e credo mi reputo veramente fortunata che anche se un po' in tarda età sia riuscita a trovare tutte le le risposte a quelle cose che se no non hanno senso non perché si crede ma si crede e si deve anche capire non siamo più bambini che possiamo credere cose che che se no non non hanno senso chiaramente parlo per me poi ognuno ha un suo percorso ma nel mio io sono estremamente grata di di queste di tutto quello che 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 tu che già spiega Stein ma che tu poi ci rispieghi in maniera veramente cristallina ecco tipo una frase che cosa volesse dire quando Giovanni è una voce che grida nel deserto ecco stasera tu ci hai dato la spiegazione che dici ah ecco allora tutto ciò che è scritto ha veramente un significato ma un significato molto molto profondo e che che ci permette di prendere tutti gli elementi di metterli insieme e di avere un quadro ecco è chiesto una testimonianza personale io molto volentieri la do grazie grazie a te Simonetta no è ovvio che dobbiamo a Stein questa capacità che questo dono che se no non sarebbe fruibile ecco ci sono tante menti tanti filosofi che hanno parlato interpretato queste parole del Vangelo ma non sono mai riusciti ad arrivare a un pensiero che è un pensiero secondo me attualissimo forse è anche un pensiero che possiamo pensare solo adesso una volta non si poteva pensare questo pensiero perché è un pensiero che non era ancora pensabile dall'uomo adesso può sembrare un assurdo però non c'erano le forze nell'uomo capaci di poter accogliere e accettare un pensiero del genere forse solo i grandi iniziati perché quando tu dici che appunto Giovanni è il primo che dice io solo a se stesso ma forse comunque in filosofi i greci lo avevano a loro modo questo l'avevano già l'avevano già scoperto questo loro l'avevano anche loro questa esperienza ma era una surroga dovuta all'iniziazione perché erano entrati nel mondo spirituale è ovvio che non era un'esperienza comune avevano dovuto compiere un lavoro enorme un lavoro che per noi è anche potrebbe sembrare anche pericoloso erano delle prove e degli stati di superamento di coscienza che erano comunque una percezione dell'io che non era ancora stato dato perché quando viene dato dal Cristo diventa potenziale per tutti prima bisognava andare infatti lo dice lo dice anche il Vangelo che lo spirito viene portato via soltanto dai violenti da coloro che hanno violenza che lo violentano quindi gli iniziati sono da vedere come loro che fanno violenza a se stessi anche al mondo spirituale per poter avere questa esperienza dell'io che ancora non era un fatto disponibile per l'umanità intera quello che mi ha affascinato quando tu dicevi che prima di Giovanni Battista l'ebreo portava dentro il suo io questo io diciamo della linea del sangue che conteneva Abramo e tutti gli antenati che poi sparisce a un certo punto con Giovanni che è il primo che quando dice io è solo a se stesso questa voce nel deserto allora mi rammento che Steiner ci ci prepara a quel momento quando noi in future incarnazioni comunque avremo anche la memoria dei tanti delle tante vite passate quindi in un certo senso c'è un parallelismo tra l'ebreo che aveva dentro di sé Abramo Isaia Elia tutti quanti e noi comunque avremo le nostre vite le nostre vite vissute come io ecco dentro di noi in un futuro ancora venire beh sì anche questo è un pensiero che si estende certo avremo un'individualità che non si sofferma in una vita ma contempla più vite certo non avremo è come se noi ci riconoscessimo parte della nostra stirpe come individuo ecco ecco c'è ancora qualcuno che ha piacere di dire qualcosa abbiamo ancora un quarto sì buonasera a tutti Giancarlo sì buonasera buonasera dunque fa un effetto liberatorio tutto questo la lettura di una diciamo di una conferenza di Rudolf Steiner che parla del Vangelo di Giovanni fa riferimento agli Elohim e vorrei Tiziano se riesci a darci una una tua chiave di lettura perché per me rappresenta un elemento molto molto difficile ecco tutto questo grazie dunque gli ebrei non conoscevano il segreto degli Elohim cioè gli Elohim sono sette dei sette spiriti della forma sette potestà che hanno una natura solare in realtà sono sei di cui uno si chiama Yahweh sei Elohim sono dei solari che sono quelli sette Elohim sono quelli che hanno dato a noi il nostro io noi possiamo dire di avere un io perché questi Elohim hanno donato la loro sostanza in sacrificio affinché noi potessimo fondare il corpo dell'io gli ebrei e anche gli islamici non adorano il padre ma adorano un Elohim e questo Elohim si chiama Yahweh precisamente è uno di questi sette che ha deciso di non soggiornare sul sole ma di rimanere sulla luna e quindi di regolare l'evoluzione terrestre dalla luna questo si può vedere perché sia negli ebrei che soprattutto negli islamici loro hanno come sumbolo la mezzaluna come se fosse un dio lunare Yahweh non è un dio lunare perché è un Elohim solare però per il sacrificio ha scelto di operare dalla sede della luna questi Elohim si trovano quattro gradi sopra l'uomo uomo angelo arcangelo arcai Elohim poi sopra abbiamo altre entità virtù dominazioni troni cherubini e serafini se noi vogliamo cercare il padre di cui ci parla Gesù non dobbiamo riferirci a Yahweh perché in tutta la Bibbia gli ebrei si riferiscono a questo Yahweh che è uno spirito della forma quindi spesso Yahweh quasi sempre parla nella Bibbia ma non è il padre di Gesù il padre di Gesù non lo conosce nessuno infatti lui spesso dite voi non sapete chi è il padre mio cioè non lo conoscete voi dite padre a qualcuno che non è mio padre e quindi è come se gli Elohim fossero i dei creatori certo dell'uomo e della terra ma non sono coloro che sono in seno alla Trinità sono anch'essi parte delle gerarchie quindi sette Elohim sei Elohim più uno Yahweh sono a servizio di quella che noi chiamiamo la Trinità ecco è un discorso un po' lungo e complesso non so se Giancarlo ti basta però si sarà qualche modo per estenderlo se vuoi essere più vuoi fare una domanda più precisa casomai no no è già uno stimolo importante di approfondimento sto leggendo appunto queste questo testo sulle conferenze e quindi mi restava abbastanza difficile già questa chiave lettura rende tutto questo un po' più chiaro grazie bisogna piano piano lavorarsi perché sono tante le nozioni da mettere insieme e spesso le contraddizioni o le incomprensioni che abbiamo sono dovute al fatto che ci mancano dei pezzi che piano piano poi possiamo aggiungere col tempo ecco esattamente grazie grazie a te ecco c'è ancora qualcuno io sono Alessandra ah ok scusa Alessandra prego poi dopo Anna e Marzia vero? sì volevo ringraziare e salutare tutti e tutte è stato un percorso piacevolissimo io sono ancora un po' nella nebulosa dove i pezzi ancora non sono ben tutti collegati è un po' di tempo che mi avvicina all'antroposofia e quello che mi piace di più è che la sento mia anche se non ho proprio la proprietà e la conoscenza di tutta l'antroposofia però ogni volta che mi interesso di un argomento mi sembra che si collochi perfettamente e che risuoni dentro di me come una cosa che c'è già che c'è già ma devo solo riscoprire io ti ringrazio perché con queste conferenze le tue spiegazioni sicuramente sono sono un veicolo che aiuta a entrare più velocemente però certo che è talmente basta la materia che ci vorrà tantissimo tempo prima di entrarci completamente comunque anche gli interventi delle altre persone sono sempre preziosi e quindi grazie grazie davvero grazie a te Alessandra grazie grazie prego non so se prima c'era Anna Sarroco o Marzia forse Anna vuoi dire tu prego volevo chiedere perché la figura di Uriele è scomparsa cioè si ricordano sempre i tre arcangeli e invece Uriele questa figura rimane un po' così misteriosa non viene contemplata sicuramente adesso nella Bibbia non viene portata questa immagine cioè nei documenti ufficiali diciamo canonici non c'è questo nome però negli apocrifi come vediamo c'è sia nel libro di Enoch che un libro libro di Enoch una volta era parte della Bibbia cioè noi se fossimo stati coerenti l'avremmo ancora nella Bibbia perché però viene estromesso e quindi lì si parla di Uriele che addirittura guardate dice delle cose grandiose nel libro di Enoch questo Uriere un arcangelo potente perché nel libro di Enoch viene spiegata l'incarnazione dell'uomo non attraverso la caduta consapevole di una scelta di Adam e Eva ma perché gli angeli hanno fatto cadere l'uomo volutamente c'è una schiera angelica che si avvicina all'uomo e lo strascina verso la terra ecco questa è una cosa che cozza con tutto quello che sarebbe dovuto essere la concessione cattolica che l'uomo deve essere un peccatore non può essere stato travolto da un evento degli spiriti caduti la colpa doveva ricadere sull'uomo da una scelta umana ecco e Uriere fa parte di quella parte diciamo esoterica che non doveva apparire forse possiamo parlarne adesso perché stiamo parlando in modo esoterico ma prima non si poteva parlare di Uriere perché Uriere fa parte già di quella tradizione che ci parla dello spirito e quindi ci colloca in una dimensione cosmica dimensione che manca completamente delle tradizioni religiose ecco grazie prego prego ecco Marzia volevi dire qualcosa anche tu sì grazie e devo dire che Anna mi ha anticipato perché anche io volevo chiederti qualcosa in più su Uriere appunto e se ti eri fatto un'idea sul perché insomma fosse stato un po' nell'ombra però ecco hai già risposto e quindi approfitto intanto per ringraziarti Tiziano perché riesci sempre a dipingere con una grande lucidità e chiarezza dei contenuti che sono molto nutrienti ma anche tanto grandi quindi grazie per questo e per il lavoro che fai sempre e devo dire che anche portare l'attenzione sulla festa di San Giovanni e su Uriere in realtà mi dà la sensazione di completare il ciclo dell'anno proprio perché Uriere essendo il reggente dell'estate ci mancherebbe un quarto dell'anno come come posso dire parlarne mi mi dà la sensazione di mi viene la parola completezza proprio perché le stagioni sono quattro questo arcangelo regge la quarta stagione ed è come se parlarne o comunque lavorarlo insieme a te mi dia la sensazione di completare le quattro immaginazioni cosmiche quindi grazie ancora grazie a te Marzia grazie ecco abbiamo ancora qualche minuto sì buonasera e anche io volevo fare un ringraziamento sì a lei perché io sono arrivata a metà anno però sia metà percorso però mi è piaciuto tantissimo ho capito un sacco di cose che sì veramente la materia è enorme e niente grazie spero che ci potranno essere ancora altri incontri ecco grazie grazie a lei grazie mille sì sì è ovvio che sì pur che si voglia cercare di essere chiari e semplificare purtroppo ci sono concetti che non si lasciano semplificare ecco nel senso che a volte io vengo tacciato di semplificare l'antroposofia e quindi di non permettere che altri facciano un lavoro che deve essere fatto in modo autonomo però è anche vero che ci sono tante persone che non si avvicinerebbero neppure all'antroposofia se non ci fossero dei concetti che potessero essere catturati come quello che io ho tentato di restare serio penso che sia un concetto non cardinale ma sia affascinante soprattutto nuovo non è un concetto che possiamo attingere da altri testi o da altre tradizioni ecco no e poi pulito soprattutto senza nessuna certo è qualcosa che fa girare la testa che fa fare le capriole come dice qualcuno che è uno sventolone ecco vero Giancarlo però ci pone in una dimensione che è quella dell'uomo cosmico dell'uomo moderno che vuole delle risposte che siano scientifiche da un lato che siano razionali ma che che abbiano un eco in noi di risonanza e soprattutto di testimonianza cioè queste cose sono cose che non non sono delle conferme certo non è che possiamo dire che l'io è dio però c'è qualcosa in questo che ci spinge a una ricerca che che non finisce qui e soprattutto è una ricerca che quando la cominciamo non c'è più la possibilità di tornare indietro cioè uno non può più dopo rinnegare se stesso e dire ah ma no no a me non mi interessa mi dispiace e torno a fare quello che facevo prima no non si può più e non lo non è per colpa mia è perché la verità purtroppo fa innamorare ecco e quindi quando ci si innamora della verità mi spiace ma non la si lascia più sì posso dire qualcosa sì sì prego prego Anna eh vabbè io non è molto che mi sono avvicinata all'antroposofia e insomma è una cosa molto profonda anche difficile però veramente molto affascinante stasera purtroppo ho perduto anch'io la prima parte perché non avevo l'audio e però insomma i concetti che hai esposto come sempre sono molto molto profondi però da ancora da profondi cioè io li voglio studiare perché mi sento ancora molto molto impreparata è molto impreparata quindi ho voglia di veramente di approfondire di fare proprio uno studio serio attraverso i testi che hai consigliato insomma mi sono già un po' attrezzata e quindi ci sto lavorando sopra e vabbè anch'io volevo non voglio perdere tanto tempo rubare tempo ulteriore un grande ringraziamento perché ti seguo molto volentieri e insomma è vero riesci sempre questi concetti profondi a renderli anche più alla portata e quindi poi io rimango sempre molto soddisfatta dopo averti ascoltato quindi un grande ringraziamento soprattutto e poi a presto rivederci spero di persona grazie a tutti e buona serata grazie alla prossima ecco dicevo colgo l'occasione per dire che questa sera è un po' il compendio del lavoro che abbiamo fatto che abbiamo iniziato a settembre e di solito facciamo questo ciclo che va da settembre da metà settembre a San Giovanni e poi lo riprendiamo il settembre quindi luglio agosto vi lascio nelle mani di Uriele non dico nelle mani di un altro perché c'è anche un altro che è lì che vi vuole prendere nelle sue mani però vorrei che sentiste questo 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 monitor questo Uriele che con il dito dice attenzione la coscienza deve essere sempre presente perché non c'è mai un momento in cui possiamo stare tranquilli cioè c'è sempre qualcosa che può intervenire siamo sulla terra per essere svegli per essere desti ecco quindi siate desti ecco è il mio consiglio ecco desti su tutto sulla mancanza di libertà e soprattutto sul fatto che vogliono toglierci la sensibilità vogliono renderci insensibili esseri fatti come degli esseri automatici che non hanno la capacità di amare essere insensibili vuol dire non provare più nulla avere il sentimento disattivato ecco questo video è possibile riascoltarlo Tiziano hai detto adesso casomai adesso vedo tanto è una cosa che abbiamo fatto pubblica vedo se posso pubblicarlo su YouTube poi casomai lo pubblico lo rendo pubblico anche su Facebook anche di altri anni ho fatto così per quanto riguarda San Giovanni perché è qualcosa che è bene se può essere un momento di luce per qualcuno che tutti ne possono usufruire ecco quindi cercherò di pubblicarlo nei link lo vedrete ecco capito grazie lo metterò proprio come Urile ti darò un titolo sarà riconoscibile grazie se c'è qualcuno in chiusura vuol dire un'ultima cosa no no vai vai velocissima velocissima volevo salutare tutti è stato un bellissimo viaggio credo che questa verità come dici non la possiamo assolutamente più perdere perché non ce n'è un'altra e quindi attendo mi metto nelle mani di Urile e attendo a settembre o forse anche prima se si vede in presenza arrivederci a tutti e grazie Tizia grazie Paola prego Chiara se vuoi dire anche tu sì solo un grazie mille di tutto Tiziano solo grazie ah va bene grazie Chiara grazie a te e a tutti e a tutti quanti bene io ringrazio tutti anche che ci hanno seguito ma anche chi di ferita ci ha ascoltato perché ci sono tante persone silenti che casomai ascoltano queste nostre parole questi nostri commenti addirittura è capitato di persone che hanno partecipato da remoto e poi ci incontriamo nel reale e parlando tra di loro si riconosce ah ma tu ti conosco fai parte del gruppo dalla voce si riconosce sarà capitato allora è curioso incontrarsi anche su un altro piano ecco diciamo che incontrarsi nel reale è una vera cuccagna nel senso cristianizza il tutto nel senso che se noi rimaniamo isolati e non ci incontriamo nel reale in realtà c'è qualcuno che si sfrega le mani che dice oh ce l'ho fatto ce l'ho fatta scompartare sono tutti belli lì nei monitor si credono di essere collegati che bella illusione che gli ho dato e invece no quando ci troviamo insieme è quello lì che si sfrega le mani rimane fregato anche se Steiner dice che Arimane si arrabbia sempre perché alla fine perde sempre c'è sempre quello che crede di vincere di farlo sgambetto e poi invece c'è sempre lui che cade in folle quindi cerchiamo di farlo sgambettare di nuovo e se vi è occasione c'è la possibilità di poterci incontrare fare qualche chilometro in più a volte sapete che una volta la verità di cui si può innamorare si faceva si compievano anche migliaia di chilometri per farlo si andava sopra un cavallo non vi chiedo questo però a volte però se ci sono delle cose nell'estate magari ce lo comunichi sul gruppo e facciamo qualcosa magari c'è un'opportunità si 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 certo ma ci sono già tanti degli incontri programmati ci vedremo io verrò senz'altro a trovarti ce ne sono una a Ferrara uno a Parma a Lucca una a Lucca si si e un altro adesso non ricordo bene ce n'è un altro la televisione l'ho già fatto domenica scorsa si si ti raggiungerò a Lucca a Lucca mi sembra che ci sono 17 luglio 17 e il 10 sono a salso maggiore terme vicino a Parma e il 3 sono a Terrare ecco quindi se uno è in quelle zone io volentieri lo incontro ecco va bene io vi ringrazio grazie per la vostra presenza grazie a te ciao a tutti a presto grazie a tutti buona serata ciao 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 grazie a tutti